Cioccolato finissimo, cialta leggera e croccante. È la tortina Loaker. Un piacere raffinatissimo. È la gran pasticceria Loaker. E oggi nasce Tortina White. Prova questa sorprendente novità. Loaker che bontà. Mmm, cioccolato finissimo, varietà dei gusti. Sono gli ingredienti migliori. Un piacere raffinatissimo. È la gran pasticceria Loaker. E da oggi anche le fogliette. Fragrante novità, il sottile piacere del cioccolato. Loaker che bontà. Grazie.